Siamo veramente felici di poter iniziare un percorso, si spera, che ci porterà a mettere a terra quelli che sono dei principi generali che abbiamo faticosamente trovato in questo scambio che è durato durante l'anno della pandemia del 2020 e che ha prodotto il manifesto che tutti conoscete. Un manifesto che è, mi piace chiamarlo così, un po' la carta costituzionale, tra virgolette, che ci siamo dati, dove sono contenuti tantissimi principi in cui tutti quanti ci riconosciamo, ciascuno secondo le proprie specificità e peculiarità, ciascuno secondo le proprie sensibilità, le proprie aspettative e che ora appunto si aspetta di dover entrare in fase attuativa. Questa giornata è stata organizzata pensando anche proprio a voi e alle idee che avete portato nel tempo ed è anche un momento in cui vogliamo fare in modo che questi stimoli possano essere presentati. Essere presentati a che scopo? Allo scopo appunto di vedere, di offrire a chi poi dovrà avere la responsabilità, l'honore e l'onore di appunto tradurre questi stimoli in operatività che sono appunto le amministrazioni, poter avere degli stimoli in più da dare a loro, da offrire a loro per poter eventualmente appunto andare nella direzione della messa a terra secondo quello che appunto verrà fuori questa mattina. Molti dei progetti che sono stati mandati, di cui parlerete oggi, sono stati già recepiti, inviati al CNR di cui parlo tra poco e oggi quello che facciamo è offrirvi una vetrina, uno spaccato, tre minuti per poterlo presentare. Vi chiedo, visto che appunto è una giornata pensata appunto per essere veloce, di rimanere all'interno di questi tre minuti e di darmi appunto una mano nella gestione di questa mattinata. Mi perdonerete se a un certo punto, se vedo che gli interventi vanno troppo lunghi, dovrò togliere la parola. Organizzativamente farò venire qui al banco le persone che dovranno parlare e chiamerò immediatamente la persona che dovrà parlare successivamente, chiederò di sedersi lì. Così siamo veloci nell'avvicinamento delle testimonianze. Per quel che riguarda la presenza del CNR, sono felice di avere qui con noi Ambra Messina e Eros Manzotti, che sono due ricercatori del CNR che oggi ascolteranno quello che noi avremo da dire, ascolteranno anche le riflessioni che i sindaci che sono qui presenti e che ringrazio o collegati avranno in modo tale da valutare se in che misura queste riflessioni, pensieri possono già tradursi una operatività. Il CNR, come sapete, è uno dei partner con cui abbiamo avviato questo percorso, insieme ad Aslis all'inizio e a Menterologo Luca Mercalli, all'inizio quando abbiamo impostato il progetto del 1935, in particolar modo per quel che riguarda il CNR con il direttore Francesco Petracchini e per Aslis era presente il ministro Giovannini, che all'epoca non era ministro, comunque abbiamo avviato questo percorso, ne è scaturito una possibilità da parte di una riflessione che abbiamo avviato già qualche mese fa con il CNR di valutare se in che misura quello che era stavali scritto poteva in qualche misura poter essere concretizzato ed eccoci qui in questa giornata, in questa raffinata per vedere se in che misura possiamo farlo. Grazie quindi a Eros e a Ambra che sono collegati con noi, che ascolteranno tutto quello che avremo da dire oggi. Sono le 10.05, quindi come da programma la parola a voi per magari fare un po' il punto di quello che abbiamo discusso l'ultima volta che siete venuti qui fisicamente il 22 settembre scorso e capire quali sono le possibilità che magari possiamo avere rispetto appunto a quanto detto. Le prime idee che sono venute poi sia in occasione del nostro incontro e presenza lì all'Elba sia insomma qualcosa che ci è stata mandata in questi giorni sicuramente un ottimo inizio per avviare un dialogo rispetto a quelle che sono insomma gli obiettivi dell'Unione Europea a livello nazionale in termini di riduzione degli impatti e quindi insomma siamo qui un po' per fare il punto riprendendo quello che si era già detto nel senso che insomma io parlerò un pochino di chi siamo chi è l'Istituto sull'infinimento atmosferico del CNR brevemente è un po' per dare un'idea di quello che facciamo e poi da lì insomma questa è un'ulteriore occasione di presentazione di quello che si fa per noi è un momento di insomma raccolta di quelle che sono le idee che si trovano dal territorio sia a livello di amministrazioni sia appunto i stakeholder locali, le categorie, la comunità tutta e da lì cominciare a fare un ragionamento rispetto alle opportunità in corso e quelle che seguiranno su come effettivamente cercare di sviluppare delle produttionalità alla luce di quelle che sono le opportunità come dicevo il CNR e appunto il Consiglio di ricerca nazionale delle ricerche ha una serie di istituti appunto sparsi in tutto il territorio nazionale inoltre l'Istituto dell'infinimento atmosferico che si occupa soprattutto di riduzione degli impatti dell'infinamento e quindi insomma noi agiamo diciamo verso la distruzione ecologica che ha integrato una serie di competenze monitorate e studiando la qualità dell'aria per garantire la salute delle persone utilizzate una serie cliniche e pratiche sostenibili che possano proprio agire in queste azioni non abbiamo una serie di serie in tutta Italia non entrerò troppo nel merito però chiaramente perché volessi sentire potete trovare tutto il nostro sito utilizzando una serie di laboratori strumentazioni e stazioni di rilevamento appunto una serie di chiaramente studi i nostri gruppi di ricerca sviluppano appunto una serie di strategie proprio per ridurre gli impatti cercando poi di appunto mettere a disposizione dei decisori politici e degli operatori del settore produttivo il percorso più efficiente possibile in termini di riduzione degli impatti appunto a proposito di isole questo un po' per rendere l'idea per farlo un po' nel merito di quello che si fa sulle isole ogni anno insieme all'ambiente noi elaboriamo un report che è appunto il report di isole sostenibili che appunto viene violpato all'interno di questo osservatorio che è stato creato sull'isole sostenibili che vuole contribuire a comprendere le sfide e facilitare un cambiamento per rendere le isole minori un vero proprio laboratorio di connessione ambientale e quindi guardiamo le sperimentazioni e innovazioni in corso nel mondo soprattutto nei terreni in Europa e quindi analizzando quelle che sono le buone pratiche che possono essere in qualche modo prese un po' da esempio e replicate appunto ogni anno vengono realizzate in questo momento 27 isole minori abitate attraverso numeri, analisi, schede specifiche ma anche attraverso le buone pratiche che ogni isola porta avanti quindi cercando un pochino di dare valore appunto in confronto dall'area realtà gli obiettivi di innovazione che in questo momento noi cerchiamo di indirizzare sono appunto l'energia, i rifiuti, la mobilità a poco d'ambe, la regolazione insomma le opportunità e i limiti relativi anche a questi temi quindi l'obiettivo della produzione energetica è sicuramente quello di incrementare la produzione energetica da fronte rinnovabili accompagnandola con gli interventi di efficienza energetica a proposito dei rifiuti chiaramente la piuttura del ciclo dei materiali attraverso la costa differenziata del cuore all'utilizzo dell'organico all'organizzazione dell'organico e così via mobilità sostenibile quindi investire proprio nelle innovazioni e nelle integrazioni che sono oggi possibili tra mobilità collettiva scende, ciclabili e pedonali in tutte insomma le sue forme l'accomodabile e l'approvvigionamento della giustizia delle risorse idriche che sicuramente deve puntare a essere più virtuoso riducendo le perdite e gli sprechi installando impianti di desalinizazione dell'acqua e così via realizzando un modello di gestione delle risorse idriche recuperando e decorando attraverso decorazione e fitodecurazione dei reflui questo è un esempio delle schede che abbiamo proposto nel nostro report in questo caso proprio quella dell'isola d'Elba quindi analizziamo la popolazione la superficie quindi insomma le informazioni di base il numero di esercizi risettivi e ricettivi il contributo di sbarco aree protette poi appunto tutte le tematiche che abbiamo analizzato fino adesso quindi appunto entrando un pochino nel merito di quella che è la situazione attuale rispetto a tutte le tematiche che andiamo a analizzare per poi nel tempo capire anche come cambiamo questi valori e quali possono essere insomma gli sviluppi ed esattamente le progettualità da portare avanti nelle varie le sfide insomma le sappiamo un po' tutti sarò un po' ripetitiva ma è importante ricordarlo e quindi la prima è quella della capacità di realizzare queste innovazioni in realtà complesse che insomma vivono grandi oscillazioni di flusso turistico nei mesi estivi con consumi e impatti che insomma vanno sicuramente gestiti nel modo migliore la seconda sfida è quella di portare avanti delle innovazioni in territori che come tutti sappiamo sono i pervincolati dal punto di vista ambientale il paesaggistico e quindi come dire mantenere quello che è insomma la conservazione della natura però portando avanti delle innovazioni che possono insomma preservare la natura ma al contempo guardando a futuro un po' qui brevemente un esempio in progettualità che si stanno portando avanti nelle isole minori in questo momento soprattutto nelle isole siciliane quindi in Pabignana lì per i rincani di Puglia di Puglia Giustica e Lampedusa con una serie di opportunità di finanziamento che sono state possibili grazie insomma al Ministro della Transizione Ecologica al Ministro dello Sviluppo Economico anche ai progetti europei in questo caso con Horizon e appunto quello che noi abbiamo fatto è stato supportare le isole minori che ho appena citato nella scrittura e nello sviluppo quindi delle progettualità che appunto da tante persone con questi bandi anche a quelli di Comunia hanno partecipato e insomma fondamentalmente le tematiche sono state soprattutto quelle dell'efficienza energetica la mobilità sostenibile e dell'adattamento ai cambiamenti climatici in senso più ampio si è puntato soprattutto si sta puntando ad aumentare la quota dei contenuti di energia rinnovabile attraverso il bicentramento energetico e quindi attraverso compie di calore compie di lumi antiallendi sistemi di monitoraggio dei consumi e cotovoltaico poi anche la riduzione delle pebbine sulla rete idrica che è un problema che insomma è abbastanza immune nelle isole e quindi attraverso l'efficentramento dei sistemi di monitoraggio poi anche per quanto riguarda l'ampilità elettrica minibus e barche turistiche elettriche anche in sistema di monitoraggio e visibile ma dom giusto per rendere l'idea in questo momento proprio recentemente abbiamo firmato un accordo con ANCIM perché insomma poi gli obiettivi sono comuni ANCIM ma sappiate tutti l'Associazione Nazionale dei Comuni degli Isoli Minori e appunto questo accordo di cooperazione sicuramente insomma l'obiettivo è quello di scambiare idee su come implementare le buone pratiche e come dire collaborare attivamente rispetto a quelle che stavano le nuove opportunità e assistere un po' il percorso delle isole in questo senso le opportunità nazionali diciamo queste sono già non sono in corso ma insomma ormai concluse le prime che citerò quindi appunto quello che ha preso possibile lo sviluppo insomma l'avvio di questi progetti che ho appena citato e quindi quelli dei fondi del sviluppo economico e della sviluppo ecologica recentemente un fondo per gli investimenti di isole di noi che appunto è destinato a finanziare i progetti di risoluzione strutturale e di qualificazione del territorio proprio nell'ambito di gare in via europeo e quindi insomma sono delle opportunità che già sono state messe in campo e che appunto ha reso possibile il coinvolgimento di una serie di compiti delle isole nel partecipare a questi bambi e quindi anche vincerli nel senso che insomma questi progetti sono partiti adesso il fondo per gli investimenti dei fiori minori insomma ci sono state sicuramente le isole che hanno partecipato bisogna accadere un po' quali sono i progetti più interessanti che avanzeranno ci sono anche incentivi insomma per gli imprenditori quindi ecco chiaramente per noi sempre importanti magari questi li seguiamo con me ma è insomma importante citarli i ministri di resta a sud quindi l'opportunità per gli imprenditori di accedere a questi fondi e poi appunto e chiudo nel senso che lascio la parola al mio collega Rosmano sul PNRR che è una nazionale di ripresa e resilienza che prevede 200 milioni di euro proprio per le isole minori per progettualità nell'ambito appunto del periodo europeo e quindi appunto una serie di investimenti che saranno previsti per la transizione ecologica dell'economia circolare e delle isole considerate appunto anche qui in questo caso un vero proprio laboratorio proprio perché hanno delle caratteristiche che potrebbero effettivamente garantire nel futuro con un molto impegno dei modelli 100% green autosufficienzi e quindi insomma lascio la parola al mio collega su questo aggiungo che è presente qui con noi la nostra collega Laura Tomasetti che è appunto una ricercatrice dell'istituto di un'ambito atmosferico del CNR che seguirà la progettualità nel futuro che dovesse appunto essere portata avanti ma allora non ci fosse la volontà di tutti io farò un piccolissimo un bellissimo questo focus sul CNR eccetera ci sono scolari un paio di numeri per fare il piatto per gestire una fotografia di quello che è tutti che sapete in Stato Sanitario in questo momento c'è una questa grossa questa grossa opportunità di questa dimensione di finanziamenti di denaro che non succedeva in questo paese da da decenni e che in particolare i territori partenari i territori che sono un po' più periferici che comunque andiamo anche a chiudere nei giorni di noi di fatto sono una rossa opportunità oggi non ci scudevamo con noi ma di questo di dire che il CNR è un treno che non fondamentalmente non si può perdere sarà l'ultimo iniezione di denaro del genere non ci sarà per i prossimi territori che è il prossimo futuro ci sono delle oggette che vanno comunque a investire in altri territori iniziali di iniziali di Italia e quindi una possibilità di sviluppo fondamentalmente co-partecipata co-partecipata anche con le comunità co-partecipata anche con le amministrazioni che dovranno fare la parte degli uomini nel non soffrire, nel poter intercettare questi fondi per il proprio territorio. Quello che abbiamo riscontrato in queste prime settimane, possiamo ancora decidere un primo periodo di prova, un primo marchio di prova del PNRR sia con le municipalità, con le organizzazioni, con le regioni minori, ma anche con le regioni maggiori, comunque il stesso studio in Sicilia, non nevo che le difficoltà ci sono, il territorio non era ancora pronto a ricevere questa quantità di denaro, le organizzazioni hanno delle due interventi, cioè si capisce e capiamo quelle che sono le difficoltà, però non toglie che è una sfida fattibile, una sfida che appunto non si può perdere e lo scopo anche del PNRR è questo, naturalmente non siamo in Deus e Magna che riuscirà a modificare o a gestire tutto contemporaneamente portare lo sviluppo del Sud, grazie al PNRR perché c'è il PNRR a noi, noi come già in conto alla collega Pocanzi, stiamo dando come ente di dire che il massimo contributo, il massimo contributo possibile significa accompagnare le settori comunque di nostra pertinenza, nel lavorare con le amministrazioni, nel trovare anche l'idea, l'idea protettuale, da poi riuscire a territorializzare e che è ciò che accompagna ma che riesce anche a intercettare con quel senso di finanziamento attraverso il PNRR, in questo caso questo dirò magari del PNRR, ecco il nostro ruolo è quello di supportare quelle amministrazioni dove esistono anche dei gap, dove si dice io vorrei farlo ma non ho la possibilità di farlo perché magari ho poco personale o perché magari non ho ancora il personale formato su questo quindi posso appoggiarmi a CNR per discutere, per trovare, per trovare una posizione, per avere poco partecipare alla struttura del progetto e questo diciamo è il nostro ruolo e ci piace anche fatto, quindi diciamo anche il concerto. Ok, detto questo, sì, penso che non vi dirò niente di nuovo cosa che vedete già quello che è il PNRR, le grandi opportunità e il grande foco che viene fatto sull'idea di noi, in questo momento sicuramente asserente la banda alta larga, che attraverso le strutture sottomarino in fibra ottica lo scopo sarà appunto quello di portare una connettività ultraveloce e di riuscire a dare una certa rilevanza finalmente al risultato economico e sociale delle isole minori dotandole delle necessarie delle infrastrutture, quindi il contesto è il loro nasce per il funzionamento di realtà intervitoriari e locali solide e contribuire anche la rilevazione economica degli stessi territori, cioè la collettività è fondamentale ed avrà anche, diciamo, su questi 200 più o meno, 200 milioni di fondi all'operazione dei territori minori ha una buona, cioè occupa una monatetta, perché quasi 60 milioni di euro sono dedicati solamente a questo. ecco, dicevo, non c'ho lato un po' di numeri ma sono disponibili per dare un'idea, ci sono 28 milioni di euro per l'efficiantamento energetico, dedicato per il più edifici pubblici, 3 milioni per isola, circa 3 milioni per isola, circa 2 milioni a ciascuna di essere, poi c'è la rete di situazione della mobilità, il bus, un'arte di filestriche, più o meno per 6 milioni di euro, circa 200 mila euro a isola, interventi sulla gestione dei rifiuti per 10 milioni di euro, con progetti di postaggio comunitario, interventologico, di utilizzo e riduzione, poi a quota di rifiuti, circa 500 mila euro per qualcosa di più a isola, e poi impianti di destabilizzazione, che questo, diciamo, è una parte molto importante, perché stiamo parlando di circa 100 milioni di euro allogati solamente per questo, si prevedono al momento delle strutture mobili, cercando di evitare questi soggetti di posto e di non potere, che sono stati condizionati, e si condizionisce anche il decreto salvamare, che, come sapete, insomma, è stato comunque un primo piccolo successo, con il contributo dei pescatori, della rafforza dei rifiuti in mare, ecco, come dicevo, è stato meno stimato 100 milioni di euro solamente per questa parte, con un calcolo che più o meno va su 2.500 euro a persona, con tanta popolazione doppia rispetto a quella residente, o che si terrifica addirittura durante, diciamo, i mesi estivi. Quindi, di nuovo, dovete fare un studio, 100 milioni di digitalizzazione, 10 milioni di gestione di rifiuti, 6 milioni di mobilità, 38 milioni di sufficientemente energetici pubblici, 50 milioni di servizi rinnovabili, sufficientemente energetici, e poi la torsale di infraottica per 60 milioni. Ora, quindi più o meno, tra varie divisioni, nel testo, diciamo, come diceva Ander, intorno agli 15 milioni di euro, ovvero le ultime parti che chiedono. Dalla parte dell'energia, come ha detto questo, che stavano, forse lavorate in 50 milioni, con una risultabile problematica di risultato, se le società private, in questi tempi dove, quindi, partendo dalle tendenze a infamigliare la manteneria, per il vulcano, per il titano, con un po' che ha avuto, con un po' che ha avuto, con un po' che ha avuto di risultati di risultati, per il scenario, nel senso, dell'isola, che è stato proprio il milionico, quindi, anche dalle parole del Vincenzo Ciccolani, è molto buono che, diciamo, da parte dell'energia, dell'energia, non c'è proprio il milionico, ma che, in gran parte del paesaggio, nel nostro territorio, nel 20AB, un po' del 20AB, e quindi, nella remetrazione di RES, quindi per il World Energy Folution, il teorico, ovviamente, la financo in modo adoro e insieme al solare, E poi, E poi, come dicevo, la connettività, sono questi 60 milioni di euro che verranno più o meno aggiudicati nel 2022 ed appaltati entro dicembre di unità, 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 di unità. Il progetto Rai con il NeSol, l'obiettivo è quello di finanziare il progetto europeo NeSol, sarà quello di finanziare 60 milioni di transizione energetica, di successo alle 2004 tempori, solito 2, capitate, naturalmente ho parlato con il Consorzio e bene che partecipano e che la disposizione della Borda Italiana sia profonderante, sia importante, già nella prima polpa parecchie isole italiane hanno attivato, credo anche è stato anticipato, è in cinque qui, la prima polpa è andata molto bene, questa seconda polpa, a 20 gennaio del 2022, potrebbe essere anche un'altra possibilità, si parla di supporto a idee progettuali, quello più in maggioranza anche attività, attività con un supporto di assistenza tecnica importante da parte del consorso spesso, quindi sono sicuramente studi importanti, interessanti, sono sicuramente, diciamo, a un territorio, a un isolatore, di vedere come impostare invece magari un percorso di transizione energetica su, ecco, magari l'idea oggettuale più grande, quindi le soli ti consente di fare il primo passo che è quello dell'osservità pubblicale. E poi, ecco, gli altri progetti anche là, i bambini dove non hanno un focus sui stessi minori, ovviamente, però, anche le interminori possono comunque partecipare e possono tirare poi delle, ecco, delle opportunità di progetti di più con i risori importanti, come l'AEF, che sono complessi, ben finanziati e molto affinente a quello che è, sicuramente, un paesaggistico, naturale, delle isole. Mi sembra di poter dire che, insomma, uno dei nodi, una delle questioni principali sia anche e soprattutto, oltre al finanziamento, ovviamente, di portare delle progettualità che abbiano un senso, significato, un'applicabilità, una fattibilità delle idee che possono poter essere poi perseguite e diventare cose concrete. Ed è anche un po' il senso della giornata di oggi, come vi dicevo, che è pensata per rispondere un po' a queste esigenze, molto spesso, appunto, in questo soprattutto, da quello che ha detto anche Eros Masola, il punto in questo periodo forse non è tanto il finanziamento quanto, appunto, l'idea progettuale e anche la strutturazione interna di amministrazioni volta a ottenere poi la concretizzazione di questa idea. Quindi noi oggi siamo qui, appunto, per cercare di offrire, di riflettere tutti insieme su quello che noi abbiamo ipotizzato come firmatari del manifesto Evo 2035 come progettualità e vedere, magari insieme a voi, insieme a tutti, che cosa può essere, come dire, finanziato o quanto meno anche solo ipotizzato per il tramite, ovviamente, poi di accordi che il CNR firmerà con l'unice parità e con l'ente pubblico per come questo vorrà organizzarsi e evidentemente al fine di cogliere questa opportunità, questo ovviamente resta in mano al decisore pubblico e politico che noi siamo trovati.